ciao a tutti sono frank yyz frank yyz vrio buonasera ma dai vi dico una cosa se tu va o fa lo tirami su o cat alove o catumascarpone o cat e o o caffè o zucro che costa sai 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 mo saccio che andava sai paesane nonne bisnonne con mare con pare cugine paesane che i festi natale non ci piacciono donano un regalo in un bello panettone i paesane da calabria in a cataldi danno sto bello panettone in italia che si chiama gran di cale tirami su gusto di panettone pandoro per 6 dollari e 97 ma non è pensionato 6 dollari e 97 perché non è niente ho fatto un bello panettone pandoro ma questo è il tuo panettoro non metto il zuccherino in te la vega e poi lo miscite così e poi tagli una piccola pezza tagli una piccola pezza e guarda guarda che bellezza guarda che oro guarda per 6 dollari e 97 ti conviene di vita in Italia ingredienti buoni non mai non noi può fare un termesù per 6 e 97 gli dollari. Dite adesso che questa è un'offerta a Cataldi Fresh Market, a Market Lane e salutare i paesani perché mi sa che mi piace i Cataldi, mi sembra che questo è un genere alimentare, una potica come andare a Bonanno di un anno mio, la bella Calabria, la Grotteria Dragon, che tutti ti canuscano, ti salutano, ti donano la mano, ti offrono caffè, non come a questi supermercati grandi che manco sanno come ti chiamano, ti vedono solo verde come un dollaro, che ho avviso. Ah, questo è buono. Comunque ragazzi, voglio vi auguro a voi, a tutta la famiglia, buone feste, buon Natale, buon fin dell'anno, divertitevi, salutatevi e ditevi e cattatevi questo bello Pandoro Gran di Cala che è in offerta adesso a Cataldi Fresh Market, a Market Lane per 6,97, e non ci posso credere ancora il prezzo come cavolo la fanno per 6,97, se ho burro all'ova e mascarpone e espresso solo costa tanto. Comunque, like, comment, usurgite, taglite like, vi piace, commenta e share. Ciao a tutti e saluta Calabria e tutta l'Italia. Buone feste!